cari amici di youtube benvenuti in questo mio nuovo video oggi sto facendo questo video con una foto e un audio che sto registrando con il mio telefono e questo video lo faccio per festeggiare i primi 14 anni di youtube infatti come sapete il mio canale youtube è stato re è stato aperto esattamente 14 anni fa cioè il 17 maggio del 2009 e come possiamo vedere dalla foto che ho usato l'ho creata facendo lo screenshot sul mio telefono il mio canale youtube ha raggiunto ben 1420 iscritti e sono ho pubblicato per adesso 807 video sono mixati alcuni infatti sono dal video sono dal vivo alcuni invece sono caricati sul normalmente modificandoli magari con alcune cose con alcuni spezzoni infatti da un annetto 2 da questa parte ho ho preso anche l'abitudine di fare anche qualche diretta così faccio in fretta e posso interagire automaticamente con i miei iscritti che sono veramente tanti per quest'anno ancora non c'è non ci sono ancora stati incontri lavatricistici l'anno scorso sapete ho fatto una diretta con due ragazzi che sono venuti qui da casa mia infatti se magari sotto la descrizione di questo video vi mando anche la foto ci mandò il link della live così chi magari non ha avuto modo ancora di vederla la può vedere detto questo direi che può bastare così ho parlato già abbastanza e spero che il mio canale youtube cresca ancora di più e vediamo quali altre sorprese ci riserva il futuro per intanto io vi ringrazio ancora per la visione di questo video e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti e statemi bene alla prossima